In cammino verso Natale con Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose. Sette volumi per sette temi chiave della vita spirituale, in esclusiva con Famiglia Cristiana. Cari amici, se vi chiamo così è perché voglio e posso esservi amico, compagno in un itinerario che potremmo fare insieme nel tempo di Avvento e di Natale, un itinerario sul cammino dell'uomo, il cammino dell'uomo in mezzo agli altri uomini, il cammino dell'uomo davanti a Dio. È un'avventura, è uno scoprire tante tappe all'interno della nostra vita che ci rendono più uomini, più capaci a vivere con gli altri e più credenti nel Signore nostro Gesù Cristo. Faremo insieme questo cammino con molta semplicità, ascoltandoci a vicenda, cercando di sentire ciò che davvero abbiamo nel cuore. Puoi trovare il primo volume in edicola in parrocchia a partire dal 24 novembre, solo con Famiglia Cristiana. Grazie per la visione!